man free ricerca sull'orx le parole chiave lio corporation trovato un risultato visualizzare risultato avvio lettura automatica la lio corporation nata con il pregevo l'intento di inaugurare una proficua produzione di prodotti alimentari a basso costo elevata portata proteica e vitaminica unita ad una distribuzione capillare soprattutto nelle città più affollate ben presto grazie alle sovvenzioni dei governi mondiali ha assunto il monopolio della distribuzione alimentare aprendo sedi in tutti i continenti e diversificando la sua offerta nascono infatti accanto alla lio food inc dedicata alla produzione alimentare anche la lio tech inc e la lio news inc dedicata alle telecomunicazioni allo sviluppo di armamenti ben presto il marchio lio è apparso su qualsiasi prodotto di necessità e in seguito su qualsiasi prodotto che potesse essere commercializzato la tecnologia della lio consisteva nella destrutturazione delle molecole dei prodotti in una polvere con memoria meccanica capace di riassumere la propria forma originaria nel momento del bisogno in parole povere veniva distribuita polvere per far avere al consumatore un prodotto finito integro l'idea è nata dall'ingegnere chimico eric monsant ancora in carica al momento dell'esodo sulla luna del 2014 e dall'agricoltore mark having improvvisamente scomparso due anni dopo la fondazione insieme alla famiglia la distribuzione avveniva direttamente per via aerea rilasciando le polveri sotto forma di scie dai jet che sorvolavano le città un successo planetario dopo l'esodo sulla luna la lio corporation ha continuato le sue attività aumentando drasticamente il numero di utenti raggiunti dalla sua distribuzione ma le successioni al comando sono state sempre più avvolte nell'ombra causa anche della totale estinzione dell'informazione indipendente unica garante di veridicità non si hanno dati certi sulla società in quanto i ponti comunicativi sono stati interrotti nel 2079 anno dell'ultimo contatto asilum nato sulla luna il file eseguito è stato salvato nella cartella jbx spostare questo file nel cestino www.un.org.info Grazie a tutti